Barbara D'Urso, la mitragliata contro Romina Power, non viene ospite da me? Pazienza, farò!. Dopo aver ospitato in diverse occasioni Loredana allecciso sia a pomeriggio 5 che a domenica live, Barbara D'Urso ha confessato di aver più volte tentato di invitare Romina Power. Non solo per l'incredibile effetto benefico della cantante americana sullo Cher, ma anche per darle l'occasione di replicare all'ex compagna di Albano. Ogni tentativo della D'Urso però sembra essere andato a vuoto, lei a me sta molto simpatica, non capisco perché la cosa non sia reciproca. Me ne sono fatta una ragione. Ovviamente casa mia è a disposizione di Romina, ma credo che lei si ritenga superiore a me, quindi non credo verrà mai. Certo la conduttrice non si è fatta abbattere. Pazienza, vuol dire che faremo il famoso 22 di Cher senza Romina Power. Pazienza, vuol dire che 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 vu